Ho avuto lo sfratto esecutivo e perciò mi hanno chiuso l'appartamento, buttandomi fuori me, mio figlio di 7 anni, un altro figlio e mio compagno che è invalido. Quello che vedete è il municipio di Civitavecchia. Di fronte da 81 giorni ci sono 10 famiglie in emergenza abitativa che vivono all'interno di queste tende e hanno bisogno di una casa. Andiamo al bar o andiamo alla clinica o se l'aula fucci è aperta andiamo al bagno lì perché dentro al comune non ci fanno entrare per andare in bagno. A lì c'è la fontanella dove la mattina almeno uno si può lavare il viso, poi quando si tratta di fare una doccia ci sono le spiagge e uno cerca di andare lì. A pochi chilometri dal centro c'è la ex caserma de Carolis. I lavori di ristrutturazione cominceranno tra qualche mese. La caserma ospiterà circa 150 profili. Il numero dei rifugiati potrebbe aumentare e sarà reso noto solo nel momento delle assegnazioni relative al nuovo bando. I cittadini però non ci stanno. A Civitavecchia ci dicono ci sono almeno 200 persone che non hanno un posto dove stare. Se non c'hai la possibilità, ma perlomeno un vicino di quelli da cantieri per capirci, vogliamo mettere queste persone. Vogliamo curare la dignità delle persone, delle famiglie. La famiglia è la base, la base della Costituzione italiana. Qui siamo all'interno della caserma in cui verranno ospitati i profughi. È tutto praticamente da ristrutturare. Le stanze sono distrutte, non c'è acqua né luce. Ci vorranno soldi e mesi per rendere tutto agibile. Ci accorgiamo anche della presenza di vestiti e piatti sporchi. Alcuni immigrati hanno già occupato la zona e dormono lì abusivamente. Dal comune però si difendono. Stiamo cercando di intervenire al più presto per trovare una sistemazione alle famiglie di Civitavecchia. Ma non siamo solo noi a decidere. La burocrazia è lenta. E per quanto riguarda i profughi, non è una nostra scelta. Ce l'hanno imposto. E ho provato anche a chiedere un aiuto in questo senso. Però proprio il fatto che questi soldi sono direttamente vincolati sugli immigrati, non abbiamo la possibilità di destinarli ad altro.